È stata presentata nel Palazzo Ducale di Massa la modifica alla legge regionale in materia di cave apportata per rispondere ai problemi di occupazione nati dopo la chiusura di tre cave di marmo per il mancato rispetto delle autorizzazioni e permettere così di riprendere in tempi rapidi l'attività estrattiva. A illustrare la novità sono stati il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore alle cave Vincenzo Ceccarelli. Nessuna autorizzazione in sanatoria per chi lavora in difformità ma 180 giorni di tempo per mettersi in sicurezza e riprendere a lavorare. Noi non vogliamo chiudere le cave ma vogliamo che le cave si mettano in regola anche in tempi certi prestabiliti quindi una penalizzazione forte adesso si va da 40.000 a 150.000 euro quando si lavora in difformità e poi tempi certi per mettere in sicurezza la cava perché cambiare l'intervento rispetto all'autorizzazione significa anche riconsiderare la sicurezza del lavoro, la sicurezza ambientale. Con la modifica alla legge regionale 35 presentata davanti ad amministrazioni, datori di lavoro e sindacati le imprese non in regola hanno la possibilità di mettersi in sicurezza per non vedersi ritirare l'autorizzazione o la concessione. Questo per evitare un impatto dal punto di vista occupazionale e quindi con un risvolti sociali che abbiamo ritenuto essere troppo pesanti. D'altro canto però come sempre abbiamo fatto dobbiamo seguire una linea che è quella del rispetto delle regole e regole che cercano un equilibrio di contemperare il rispetto del paesaggio dell'ambiente con lo sviluppo e l'attività occupazionale.